Droni Civile appunto italiana Va a portare civile soprattutto E quindi abbiamo parlato anche di Quelli che sono i diversi corsi e l'attenzione Che ci vuole anche per utilizzare appunto In sicurezza e divertimento Quelli che sono questi droni, se siete interessati Appunto volete contattarlo, volete scoprire qualcosa Di più sul mondo dei droni, trovate tutti I dati qua sotto, ma chiediamo direttamente A Manrico, ecco c'è un invito, un messaggio Qualcosa che vuoi lasciare a tutti i nostri amici dei social Grazie